Gli app riescono ad avere una buona efficacia, poi bisogna vedere sempre la parte centrale della gara. Noi normalmente veniamo fuori sempre tra i 5 e i 5. In questi campi ci sono parità di corsie. Maggio venga a possa mettersi in evidenza con gli altri. Sotto colpi e mezzo in questo momento. Bene Amitrano, grande Amarante e Gaddi e come diceva Naccari bisogna tenere conto del particolare angolo. Quadratura ma anche del vento che tra poco taglierà il campo di gara. Grazie. 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 Grazie.